Edo stai facendo l'upgrade, ora non ti bastano i sandali ma vuoi le Birkenstock con le calze. Bisogna dire che Edoardo ha un feticcio con questi sandali, li ama da morire, ma soprattutto i Birkenstock di Ricchi Nicoletti che oggi ha il maneggio, vediamo dopo dov'è. Allora questa è Francesca Ferragni che si cura i suoi capelli meravigliosi, non ha nessun bisogno perché ha delle onde fantastiche. Ha una testa enorme, denti perfetti grazie alla sua attività e testa fantastica, non so cosa mangia per avere capelli così. Questa è Gabri Ferragni che va in treno e questo di Ricchi Nicoletti invece oggi ha il solito maneggio che frequentano ogni tanto, nei weekend, guardate che bello. Adesso mette la mano qua in bucca. Bene, vi darò altre notizie appena so di Chiara Ferragni, vi lascio così. Ciao amici! Ciao!